diciamo una prefazione sulla brigata di sala e sulle varie tipologie di mesamplast c'è anche con me il collega Antonio Serrillo e vi presento il mio collega Antonio Serrillo e con noi anche la nostra social blogger manager, consiglio una la chiamo io, Daniela Delprete ci saranno questi prezzemoli domani faremo un po' di prezzemolo però poi capirete perché perché io dopo il taglio d'arancia farò una composta di frutta sulla mia destra c'è un tovagliolo di servizio e un piattino ad esser con delle amarelle sottospirito che vi serviranno per la composta di frutta vado ad infinsare la carota inferiore e successivamente di nuovo la carota inferiore e no Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.